La successione dei sentire è l'elemento supernormale, perché è della coscienza o della sezione supernormale della mente, la percezione dei fotogrammi. Domandatevi se credete che sia giusto questo continuo lamentarvi per la mancanza di qualcosa nell'amico, nel compagno, nel fratello. Guardate prima se v'è in voi questo qualcosa di cui lamentate la mancanza negli altri. Il lavoro e le relative preoccupazioni sono solo mezzi. Noi invece siamo il fine di noi stessi, e non già la fine di noi stessi. Le nostre limitazioni ci parlano. Il dolore nostro e dei nostri fratelli è la loro voce. Grazie a tutti.